va bene signori oggi lo finiremo penultimo capitolo incoronazione stanno incoronando e noi invece incorneremo il cattivo andremo più forti che mai più spavaldi più non lo so qualcosa però andremo a fare non lo so che cosa potremmo fare non lo so non lo so film fermi fermi perché aspetta fermi non fate nulla abbiamo un attimo un programma che ha detto che c'è stato l'aggiornamento proprio ora ti dovevi aggiornare va bene 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 allora ragazzi faremo così quest'oggi un manipolo di roi affronteranno l'inquisizione e con l'ameli uto dei topi e del fantastico giugo che ha seccato a me come una cozza sullo scoglio ma che ha i super poteri distruggeremo tutti libereremo la mamma e insieme grideremo goto ergo su yes andiamo parole sacrosante mamma non sombre e andiamo a sconfiggerti ma giugo tu mi raccomando usi super poteri come serve scatta cioè scaglia i ratun i rattoni i rati i topi i topolini i criceti inferociti gli scogliattoli idrofobi contro il nemico e sconfiggiamolo vai certo però sta corsa blanda noi che stiamo facendo attività sportiva è un po più veloci potremmo andare effe guarda che devo guardare non l'hanno fatto apposta me li loro loro i topi sono così defecano contro qualsiasi cosa e hanno defecato contro l'entrata stavolta cattivi topi non si fa cattivi cattivi topi vabbè i topi ci hanno bloccato ci hanno bloccato l'ingresso ragazzi e prendiamo un'altra strada me li ho capito e beh poverina le hanno ucciso il fratello ora vuole fare una strage mi pare giusto però mi servono anche delle pietre ragazzi perché sennò devo cercare qualcuno non lo posso cercare cosa c'è qua e virebbe anche un banco da lavoro per i potenziamenti ma io al momento i potenziamenti no li devo fare sempre vicino ai banconi se non sbaglio vediamo sì ci serve il bancone da lavoro non c'è niente ok speriamo che c'è dentro a destra dietro c'era qualcosa ah sì le pietre brava non l'avevo vista grande iole grande sorellona vai vai ok via andiamo pronti forse blanda raga allora quando corre da solo yugo cioè amicia non riesce assai dietro poi stanno mano nella mano e diventa praticamente una tartaruga fosse stata la tartaruga ninja avrebbe stato pur più dove diventa una tartaruga tartaruga ehi pensate che sia già iniziato lo spero proprio ce ne sono sempre di più nei dintorni sono tre è un po' rischioso è meglio passare per la porta piccola concordo concordo più tattici ragazzi dobbiamo essere tattici e si si cura la porta c'era la miseria che vuoi sono diventato cieco ma sai che me non posso tornare indietro a prenderla vediamo aspetta e ma sai che mi sono perso le pietre vabbè che posso portare un carico limitato purtroppo chissà se quante c'è giusto no che sto ancora capo c'è un'entrata in meccano uscite la città farà girare in tondo per un po' ah già è vero nome lì la conosce benissimo la città alla cuba va fai il ragazzo è fabbro c'ha delle braccia possenti rodrick rodrick f guarda è iniziato sembra come si chiama come si chiama duomo la quella mi ricordo un'altra struttura di qualche altra cosa che ho visto non mi viene in mente che succede a questo c'è a dove sono i rati sono qui sotto di noi quindi sono stati loro a distrugge tutto guarda per terra allora quando tieni premuto ctrl per prendere di mira i ratti le fumarare orse indicano dove sono intrappolate le orde sottoterra quindi le sorgenti luminose per liberarle ah ok quindi spengo le sorgenti luminose quindi questo sicuro e qua ce n'è una scusami aspetta guarda vi faccio vedere una cosa amici miei ratti no aspetta controllo dei ratti tutti e due mangiatevi e nutritevi ok perfetto noi ora possiamo andare mi piace sta cosa del controllo dei topastri mi mi piace proprio questa cosa il controllo dei topastri ma io devo passare di qua ora devo passare di là no sicuro dove c'è lavoraggio no quindi direi che ora li devo spostare topastri non ci faranno niente ah ok vabbè scusami che ne so prima quando ti tenevo per mano ci mangiavano lo stesso guardi 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 ok oh c'è una guardia pure là devo spegnere quella torcia ok quindi prendo questa allora prima ci sta quello eliminiamo prima quello a questo punto eh mu non lo fa eliminare vabbè ok dai va bene ucciso anche quello manca l'altro spostiamoci di qua corri 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 ok dove sei fatti vedere non è ancora il bestione vero no allora è questo vieni qua ok ok ah vabbè piccolino sono cinque anni e mezzo poi ho detto che quello c'aveva la fiamma sopra l'armatura quindi muniamoci di questo cioè sopra l'arma e proviamo ora a spegnere innanzitutto spegniamo questo così liberiamo i topi fatto questo si c'è ragione ok ok ora siamo stati rapidi efficienti e veloci ok bene ora saccheggiamo tutti i dintorni e vai si ora ha visto pure un gioco su youtube che dice che c'è sul tablet ma non si trova sul tablet vieni dentro hai trovato qualche altro gioco da giocare ok bravo ok ha trovato qualche altro gioco da giocare spegniamo tutto che ok dove dobbiamo andare ah di qua però aspetta faccio spazio devo prendere un po' di roba perché sennò dopo nei combattimenti non c'è niente grazie Hugo ora che ci sei tu con questi topassari che si spostano è molto molto più comodo ok ce l'abbiamo fatta si si è piccolino certe volte ora l'ha capito però perché ha visto con i suoi stessi occhi quindi siamo riusciti a a capirci oh grazie Manolia per il follower il follower il follower no follower aspetta ecco abbiamo finito le pietre ora grazie è stato troppo rapido aspettato tira su vai oh la miseria veramente ce la fa oh veramente ce la fa la miseria Rodri ma che sei Sansone Hercules ah ancora soldati ma è pieno zeppo di soldati allora tu non hai visto niente fatti i fatti i tuoi non ho più pietre ho finito tutto ah topassari 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 no no fai 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 oh ragazzi mi si è salvato per il rotto della cuffia maciste brava anche maciste siamo dimenticati di annoverare maciste tra tutti i forzuti ora non c'è più niente lo servono pietre ok che ancora c'è ancora qualche guardia che non ho visto ancora qualche guardia che non ho visto ah si ok vabbè possiamo andare avanti a spegnere le torce Roby a me la luce ci ferma ah ah c'è ancora la luce là ok fermi oh ok ok arriviamo sotto ci abbiamo fatto ok vediamo di prendere le pietre che ci seguono se non possiamo costruire più niente neanche vediamo se troviamo qualcosa no la 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 le pietre le pietre le pietre un attimo sto arrivando fatemi raccogliere la roba e le vive ascoltate ma c'è un intero toglione in marcia verso di noi verso di voi vedete le scale sono uscite dalla trota a casa questa andando a fuoco possiamo tornare indietro andate ok vabbè ok ok un attimo un attimo fatemi fin di prendere le cose che devo basta facciamo così che ho poche pietre aspetta fai di se ne trovo altre mi servono pietre non mi passa a corto di pietre vabbè niente i basi non mi servono il lame mi serve vabbè andiamo oh un lag vai vai pensaci tu vai vai oh c'è ancora questo no eh oh dai perché che mondo lo senti oh vabbè e c'ha ah ok e vaffanbagno eh ce l'abbiamo fatta finalmente eh mi hanno prosciugato tutte le risorse c'ho più niente ora sfonda sta porta eh prima non lo poteva eh oh eh eh l'ho sbagliato ho il questo prima ho quasi finito le risorse quindi tra poco ragazzi non contate più su di me è fuoco che non posso fare più niente andiamo vai oh mamma mia oh si non fa niente corri corri vai sfonda ok oh rocce dietro tutto non è tutto quello che si può prendere saccheggia fai vai 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 ramazzala oh ok eh grazie mamma mia ok facciamo così ma solo sta parte è stata così complicata eh non di credere che le altre erano troppo complesse aspetta sto pensando eh vediamo un po' se ci sta qualche ratto nelle vicinanze no allora in verità sono tutti senza non può fare sono riuscito a copparli tutti no ok eh oh non mi veniva in mente cosa che è figurati figurati che succede dove stanno gli arcieri siamo soppostati eh lo so che è di là dobbiamo usare il carro ok come lo usiamo il carro scusa non c'erano degli arcieri là ok ah no eh vai eh mi schiava giù cosa stai facendo per salire dietro con tuo fratello vengo io a me sembra giusto e la cava ok 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 Soldati! Soldati! Amicia! Sono tutti i vostri! Bastard! Amicia! Ci hanno scelto! Roderick, per favore! Per favore! Dov'è l'altro? Dov'è che ne deve arrivare un altro? Dov'è? 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 Bastard! Tu bastard! Prendi le stelle! Capito! Non ti preoccupare! Prendi le stelle! L'abbiamo fatta! Ho dimenticato dei sacchetti! Prendi le stelle! E ora... Prendi le stelle! E ora... Eh... Mamma mia! Ce l'abbiamo fatta! Ah, vabbè! Ciao, Iole! Ciao, ciao! Buon divertimento! Ciao, Iole! Ciao, Iole! Ciao! Ah, va! Ah, va! che le sono? mi sa che oggi devo staccare un po' prima pure io oh si devo staccare prima ok conferma per la cena di stasera yes ok si devo staccare prima ragazzi devo fare un paio di servizi non approfitto che le sono? 6.22 sì no mi sa che devo staccare ora finito questo se inizia il prossimo capitolo vediamo un po' se mi fa salvare un pochettino di cose da fare per la cena di stasera voglio fare una cosa un po' diversa in mia moglie vogliamo fare le pizze in casa quindi non da finire di preparare l'impasto cioè di controllarlo mi dirà le istruzioni mia moglie ok dobbiamo raggiungere la cattedrale con Hugo in braccio che è attaccato come una cozza e non mi fa correre eh non possiamo e non ne posso più di questi ratti c'ha ragione pure ragione Hugo forza oh davvero si certo vuoi vedere guarda visto basta che passo io Hugo vai però corriamo su forza ok dai 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 forza no non va vi aiuterò ma dovete aiutare anche a salvare la mamma mi pare giusto Hugo oh ah aspettate vediamo un attimo la situazione come oh allora no la facciamo così vediamo un attimo che ho fatto dei ratti non c'è niente di ok allora dietro atti ecco oh ah beh ok la miseria oh mi stanno banchettando come i dannati questi questi topastri eh vabbè ok aspetta fatemi vedere prima se ci sono pietre nei dintorni e sennò dopo siamo messi male ok oh un bancone per le modifiche che tanto non possiamo fare aspetta vuoi vedere guarda vediamo un po' per ora sembra che così vada bene dai oh guarda quanta roba che c'è qua pietre bene andiamo tutto oh ahia allora aspettate ora ok ok quindi mi serve quello per spegnere il fuoco non è servito a niente ma come è servito a niente allora facciamo così cosa è servito a niente cosa è servito a niente non è servito a niente attaccano i nostri compagni allora no quello con l'arco ok c'è un altro c'è un altro aspetta ah no ok devo farne ancora di questi andiamo oh e no fammi finirvi in dei sacchetti ok scusate me l'ho dimenticato in primo piano lo so che sono bella e vorreste vedermi sempre in primo piano però ho il vostro diritto a vedere il gioco che sto portando dopo questo perderò un sacco di persone non ho capito vabbè ok ah non mi hai fatto prendere però le pietre che stavano nell'angolino non può partire ancora il filmato uffi eh vabbè ok questa è la fine ragazzi ok stiamo oi oi io ancora ho capito questi saranno escrementi di topo comunque è schifo ma mamma non è conciata tanto bene quindi è più di un mese che non si cambia e non si lava la signora non avrà un buon odore oi tu hai passato la soia andate fuggite presto oh per carità dai su donna non fare così sono attinto a tutti i poteri sovrannaturali per il controllo dei ratti è pronto? no no ma non sono pronto non so quello che dovevo fare dimmelo eh allora andiamo grazie